Io ho più volte detto che il Presidente della Repubblica sta interpretando il suo ruolo in maniera assolutamente estensiva rispetto a quello che prevede la Costituzione. Questo in parte è legato alla nostra Costituzione che prevede una geometria variabile nei confronti dei poteri del Presidente della Repubblica. In altri termini, quando la politica è debole i poteri del Presidente della Repubblica si allargano, quando la politica è forte i poteri del Presidente della Repubblica si restringono. Tutto sta a verificare come questa geometria variabile si è esplicata e si sta esplicando e se si sta cambiando il sistema istituzionale nostro da parlamentare a presidenziale senza alcuna modifica della Carta Costituzionale. Di tutto questo si tratterà di discutere, discutere con grande serietà perché, ripeto, esternazioni del Presidente della Repubblica, come quella anche di questa mattina, legata alla sua preferenza sui nuovi poteri del Senato dal punto di vista di una possibile riforma costituzionale, non attengono ai compiti e alle prerogative del Presidente della Repubblica. Ricordo che il Presidente della Repubblica ha un unico modo di dialogare con il Parlamento, che è il messaggio alle Camere. Altri modi di esternare il Presidente della Repubblica non ne ha. E quindi da questo punto di vista stiamo molto attenti, come lo siamo sempre stati per tutti i Presidenti della Repubblica, ai compiti, ai ruoli e alle prerogative. Per molto meno rispetto a Cossiga, il Presidente Napolitano allora criticò ferocemente il Presidente Cossiga e di fatto avallò anche la sua messa in stato d'accusa. Noi avremo i piedi per terra rispetto a questo punto.